Ci troviamo a Sorrenti di Corosia, precisamente siamo nei locali parrocchiali della parrocchia San Francesco d'Assisi. In questo periodo, in occasione del mese di ottobre, quindi l'ottobre missionario, la parrocchia ha pianificato un'azione di carattere socio-religioso e nella cittadina ionica ha ricevuto diversi missionari, missionari francescani. Sono circa 20 gli ospiti che in questo momento, in questo periodo, sono all'interno della comunità parrocchiale di San Francesco d'Assisi. Una parrocchia che è guidata egregiamente dal vicario parrocchiale Don Claudio Cipolla. Don Claudio pianifica determinate attività, determinate azioni, mirate a creare anche i presupposti di confronto, di interazione con i laici, con i propri fedeli. E questo delle missioni è stato recepito fortemente da coloro che vivono quotidianamente la chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi. Don Claudio, un approccio diretto fra i frati, fra i missionari, i laici, le religiose e i suoi fedeli. Sicuramente è una grazia di Dio avere in questa comunità i figli di San Francesco d'Assisi, i frati minori francescani. La missione al popolo diventa per questa comunità fondamentale e importante per tanti motivi. Uno dei motivi più importanti è che è una comunità nuova, una comunità che ha festeggiato i suoi due primi anni, una comunità che vuole crescere, una comunità che si vuole allargare sempre di più. Ma soprattutto definirei in questo momento storico, grazie alla missione dei padri francescani, una comunità che vuole accogliere la parola del Signore. Una comunità che in questi giorni sta dando tanto, una comunità che sta accogliendo i missionari, i sacerdoti, i suori, i religiosi, laici, i giovani. È veramente un dono di Dio, un dono di Dio grande. E questo è il mio augurio che faccio a questa comunità, ma soprattutto ai missionari qui presenti, che questo sia soltanto l'inizio di una grande missione. Dicevamo l'altro giorno con i padri che questa missione è lo Spirito Santo che suscita nel cuore delle persone quello che il Signore vuole mettere. Ma soprattutto la missione inizierà il 26 ottobre, con la venuta del nostro nuovo Vescovo, Monsignor Giuseppe Satriano. È da lì che la comunità si deve impegnare a far sì che quello che è ascoltato in questi giorni, quello che ascolta, poi deve testimoniare con la vita, proprio come ha fatto San Francesco d'Assisi. Grazie, grazie al parroco Don Claudio Cipolla che ha ospitato quindi, ha pianificato quest'azione e poi sta ospitando in questi giorni tanti frati, laici e religiose. E noi qui abbiamo il padre Francesco. Pare Francesco, ma da dove arrivate? Chi sono questi missionari che sono presenti adesso a Mirto Corosia e precisamente nella popolosa frazione Sorrenti di Corosia? Sì, beh, non possiamo non andare come Francesco voleva, per cui il gruppo dei missionari che andiamo sempre nelle missioni popolari, che in questo caso siamo qui a Sorrenti, è fatto da fratti sacerdoti, fratti religiosi, abbiamo fra Massimo che è diacono, ecco due religiose, due suore, poi abbiamo i giovani francescani che ci accompagnano, sono i giovani del centro vocazioni e le famiglie francescane del terzo ordine francescano. E tutti siamo calabresi, no? Perché è importante, in occasione di una missione popolare, partire dal territorio, no? Quindi questa è la peculiarità. Tutti i calabresi è un territorio, un territorio attivo, dinamico, voglioso anche di portare avanti quello che è la parola di Dio. Beh, sicuramente la missione viene preparata un concuro tempo prima, no? Il parroco che ci invita già presuppone un'attesa da parte della comunità parrocchiale. In tutto il tempo poi della preparazione della missione, ecco, questo desiderio cresce. E dobbiamo dire veramente con sincerità, ma anche con la meraviglia della grazia, che siamo stati accolti da tutti. Ecco, c'è stata tanta gente che ha visto nella missione come un'occasione di coinvolgimento maggiore, no? Perché, come diceva il parroco, una parrocchia nuova vive un po' anche il peso, in queste zone, diciamo, che si stanno, diciamo, popolando nel giro di pochi anni, vive anche il peso della non conoscenza tra famiglie stesse. Allora la missione diventa quell'occasione propizia affinché anche nello stesso quartiere, nello stesso vicinato, ci possa essere l'avvio di queste relazioni. È un momento anche di aggregazione e di socializzazione fra i fedeli e al contempo però permette al parroco di conoscere meglio quella che è la sua comunità parrocchiale. Sicuramente, perché è un momento in cui la parrocchia ascolta i fedeli e è un ulteriore momento in cui i fedeli ascoltano la parrocchia. Ecco, c'è questo indescampio in modo particolare nei momenti liturgici che siamo vivendo in chiesa, ma anche nei centri di ascolto che vengono vissuti proprio nelle famiglie. E infine, ecco, quella visita porta a porta, ecco, ogni missionario a due a due, come Gesù li manda, come Francesco vuole che vadano i frati, ecco, piano piano abbiamo fatto a tappeto la parrocchia. E questo è molto importante perché c'è una presa di coscienza da parte nostra, ripeto, dal territorio, ma anche un momento di ascolto profondo a quelli che sono i pesi, ma anche la gioia delle famiglie di oggi. Ecco, e ritorniamo adesso con pare Francesco su questa tematica. Nel frattempo abbiamo pare Luigi. Pare Luigi, allora, diceva pare Francesco che siete tutti calabresi. Ecco, si parte proprio da questa identità regionale, territoriale. Diceva che siete stati accolti abbastanza bene qui. La partecipazione, che partecipazione ha visto lei all'interno della chiesa e soprattutto nel rapporto con la gente? Come ha trovato questi fedeli crossi mirtesi? A me piace definirli crossi mirtesi perché sono di mirtocrosia. Io li definisco così. Qual è stato questo approccio? Allora, potrebbe essere scontato, ma in questa parrocchia i numeri contano. Nel senso che abbiamo veramente riscontrato una partecipazione numerica, che spesso può essere anche relativa come attenzione. Ma certamente al numero è corrisposta anche una certa qualità. Noi ogni giorno cerchiamo di verificare un po' i numeri dei centri di ascolto, di quante persone partecipano ai centri di ascolto nelle famiglie, di quanti giovani, perché unitamente a questi incontri del Vangelo nelle case ce n'è uno qui in parrocchia dedicato in modo particolare ai giovani. E poi anche alle celebrazioni liturgiche, alla messa, alle altri momenti, insomma, anche durante la mattinata la disponibilità di un sacerdote per le confessioni può rendere conto di quanta partecipazione e vivacità ci sia all'interno della parrocchia. Io penso, anche avendo fatto già diverse missioni, che veramente siamo in una parrocchia viva, in una parrocchia che risponde, attenta, curiosa nel senso vero del termine. Ecco, è vicina soprattutto al parroco, responsabile anche rispetto a quello che il parroco diceva prima, cioè ad assumere l'identità di parrocchia e a capire che sarà lei missionaria su queste strade, in questo territorio. In questa realtà. Pare Francesco è originario di Altomonte, vive nel convento di Catanzaro, che è dedicato a Sant'Antonio, invece pare Luigi è di Bisignano, vive a Bisignano, ma è originario di? Terranova da Siberi. Terranova da Siberi, insomma, nella Sibaritide, conosce bene quindi un po' tutta la realtà territoriale della Sibaritide. E io vorrei raggiungere invece Suor Caterina. Mi alzo per motivi logistici, squisitamente tecnici. Suor Caterina invece è originaria di Cassano all'Oionio, o vive a Cassano all'Oionio? Vive a Cassano all'Oionio, dove precisamente? Al Santuario della Manorale della Catena. Della Catena. Mentre è originaria di? Sono della Toscana, ma sono ormai dal 2008 che sono in Calabria, quindi non lo dico per dire, però ho una buona parte di me che ormai è calabrese. Calabrese. Quindi calabrese d'adozione. Toscana di che zona? Firenze. Ah, proprio Firenze, insomma, dobbiamo parlare bene in italiano allora con lei, insomma. Allora, innanzitutto come si trova qui in Calabria? Molto bene, una terra molto accogliente, anche la gente molto calorosa, affettuosa. Affettuosa. E invece qui è venuta a Sorrenti, Sorrenti di Corosia, l'approccio con la gente del luogo? Ma io qua, grazie a Don Claudio, non è solamente adesso che sto venendo, ma abbiamo poco preparato questa missione da maggio, più o meno, che stiamo venendo periodicamente. Quindi siamo entrati, come dico io, in punta di piedi. Però ecco, si è iniziato a ristorare questo rapporto molto bello. È una bella realtà. Sor Caterina, l'importanza della missione popolare, soprattutto per le nuove generazioni, i ragazzi, i giovani e i giovanissimi? L'esperienza che vogliamo dare noi, dire ai giovani, come l'abbiamo detto in questi giorni che l'abbiamo incontrati, è che la vita non si ferma. La vita va avanti e bisogna sempre avere quel desiderio di conoscere e soprattutto, per come noi annunciamo il Vangelo, ecco, di sapersi mettere davanti a Gesù. Per noi è anche particolare il crocifisso che, tra l'altro, in questa missione abbiamo anche consegnato il crocifisso di San Damiano, quindi un crocifisso vivo, un crocifisso che ha parlato a San Francesco e quindi questo è quello che diciamo ai ragazzi, guardatelo negli occhi, incontratelo, perché lui ha sempre qualcosa da dirvi di bello. Ha sempre qualcosa da dirvi, che bello, che bello davvero questo messaggio che arriva nelle famiglie, nelle famiglie di miortocrosia e indirettamente attraverso questi nuovi strumenti, questi nuovi mezzi, attraverso anche i canali di Ionio Notizie, un po' in tutte le case, un po' in tutte le case. Fra Giovanni, allora, lei invece da dove viene? Allora, io sono di Reggio Calabria, ma vivo nella Sibaritide, vivo in un convento a Sant'Antonio, a Terranova da Sibari, quindi la realtà, più o meno, facente parte di questa diocesi, le caratteristiche sono simili. Dei conterranei di questa zona. In quanti siete a Terranova da Sibari? Siamo quattro frati che prestano servizio in due parrocchie e in un convento che anche accoglie i pellegrini di questa zona. Ecco, le attività parrocchiali, le attività del santuario sono le attività di routine, la Santa Messa, l'accoglienza dei gruppi, è un'attività parrocchiale dove si svolge la catechesi, il catechismo ai ragazzi, ai giovani, i gruppi francescani e non francescani. Come vede mutato l'approccio dei giovani con la Chiesa e con le attività parrocchiali oggi, nel 2014? Credo che le domande interiori dei giovani sono delle domande interessanti, questa sete di Dio. Ecco, noi missionari, noi cristiani, dovremmo mostrare un volto di Dio nella quotidianità, in una vita che scorre tra la quotidianità, il lavoro, la scuola, l'università. Ecco, il compito prima di tutto di noi cristiani e di noi missionari è mostrare questo volto, il volto di Gesù che cammina accanto a noi, alle nostre vicissitudini quotidiane, alle nostre storie. È un Gesù che incontriamo sempre. Ecco, credo che i giovani abbiano questa sete di Gesù, ma cercano un volto lontano, e invece lo devono trovare dentro loro stessi, dentro la Chiesa e dentro le persone che li circondano. Grazie, padre Giovanni. Una testimonianza bella e interessante, viva. E io nel frattempo mi sposto ancora una volta, perché poi le necessità logistiche, dicevamo prima, sono quelle che sono, e io vado vicino a padre Massimo. Padre Massimo è un diacono, è un diacono permanente e arriva da... originario della provincia di Cosenza, di Trenta. Ah, di Trenta. Quindi un paesino sopra la città di Cosenza, 5-6 chilometri sopra Cosenza, e vive invece? A Cutro, al santuario del crocifisso. Di Cutro, in provincia di Crotone. Prima Catanzaro, oggi Crotone. Allora, padre Massimo, lei è un diacono permanente. Sì, ecco, io, cioè, ormai, non mi ricordo adesso proprio da quando, però, sto partecipando a queste missioni, e, cioè, lo vivo e lo sento come un servizio da donare, soprattutto al prossimo. indifferentemente poi da quello che uno pensa e quello che può essere, cioè credere o non credere, però io ho sempre sentito questo bisogno di essere vicino, anche e soprattutto a chi non crede, perché a volte chi è lontano, cioè, diciamo... Lei da quanti anni è diacono? Quindi dal 2001, dal 2001, e quindi sono... Sono 13 anni, 13 anni, e vive all'interno del convento. Sì, sì, per esempio... Fa vita da convento, come tutti i frati, insomma. Sì, 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 perché noi facciamo la professione tutti insieme, poi magari ci sono i vari gradini, allora diaconi, poi c'è il sacerdotio, quindi io mi sono fermato al diaconato. E ha intenzione eventualmente di andare a oltre? Ma non sento questa esigenza. Non sente questa esigenza. L'importanza di un diacono nella comunità sociale. Sì, cioè io, ripeto, ho anche avuto varie esperienze, soprattutto lavorare nelle carceri, sono stato anche a Reggio Calabria per sei anni, poi ho ultimamente anche esperienze nel carcere minorile a Catanzaro, poi anche, diciamo, al servizio, anche se un po' non frequente, di una comunità di Mondo X. di recupero di tossicodipendente. E quindi questo, cioè io ripeto, lo sento soprattutto come una gioia dentro di me, perché essere vicino all'altro bisogna soprattutto soffrire e gioire allo stesso tempo, cioè capire veramente quello che è. Insomma, un modo bello di testimoniare Cristo. Certo, certo. Anche perché puoi vederlo, soprattutto io qui ho notato in questi giorni della missione che è veramente una comunità, nonostante ancora sia neonata, perché non è... però ho visto questo affetto, questo veramente... ma questo è anche, penso, non perché è qui presente, ma è soprattutto merito anche dello Spirito Santo che si incarna nel parroco, perché il parroco, cioè io di solito quando andiamo nelle missioni, alcune volte ci sono le voci pro e contro, cioè il parroco è questo, così, quella, tra l'altro. Invece qui è tutto un coro, il parroco è il numero uno. Insomma, lei ha notato che nella parrocchia San Francesco d'Assisi c'è un tutt'uno, quindi una simbiosi fra il parroco, nella fattispecie Don Claudio Cipolla, e i fedeli. Veramente una simbiosi, un'azione sinergica, è un tutt'uno, per opera del Signore, per opera di Cristo. E noi invece ci avviciniamo a Parre Antonio, lo stesso mio nome, per cui non posso dimenticarlo. Io notavo che lei ha in mano il crocifisso. Noi figli di Francesco di Assisi siamo amanti della croce, anche perché se ci fa caso il nostro abito è a segno di croce, formale di tau, quindi Francesco amava la passione di Cristo, la condivideva e la viveva. Infatti, a termine della sua vita, ha ricevuto proprio il sigillo delle stimmate. Forse è stato il primo stimmatizzato della storia. E quindi noi frati, per noi la croce è un po' tutto. E la guardavo perché, bene, la sorella prima parlava di un Cristo vivo, un Cristo triunfante, che è seduto sul trono regale e portava la gioia. E questo è quello che abbiamo condiviso facendo un po' la visita anche nelle famiglie. Io sono per natura una persona abbastanza allegra, forse perché le mie radici e partenopei me lo portano ad esserlo. E' originario di dove? Sono della provincia di Napoli, ma sono figlio adottivo della Calabria. Dove vivi adesso? Io vivo a Mesuraca, un santuario che domina tutta la zona del Marchesato, il Santissimo Eceum. E devo dire che è molto sentito nella zona, sia dal popolo crutese, sia da Petili o Polica, organizzano parecchi pellegrinaggi notturni. È una devozione molto viva e molto sentita. E anche questo è bello, perché il popolo calabrese è un popolo molto devoto e nello stesso tempo è anche un popolo ricco di fede e di tradizione. E' un presbitero, Lea. No, io sono ancora un post novizio. Un post novizio. Cioè, diciamo, forse dire la parola giovane è una parola grossa, ma sono ancora un giovane che sta in formazione. Ottimo, in crescita. In crescita. Tutta la nostra vita è una crescita, siamo in evoluzione. Parlavamo in crescita sotto altri punti di vista, sotto l'aspetto puramente spirituale, oltre che morale, perché è tutta la nostra vita in evoluzione. È una continua crescita ricercando quello che il Signore ci indica. E con noi invece abbiamo un laico, un laico, che si chiama... Daniele. Daniele. Daniele, da dove arriva? Io dalla provincia di Vipovalentia, di Briatico, precisamente. Ed è qui a Mirto Crozia. A Mirto, insieme ai frati. Per dire cosa? Per annunciare che Cristo è risorto anche. Che a volte anche di fronte alle difficoltà e di fronte alla croce, Cristo risorge sempre. È un passaggio, diciamo. Lei è un laico, un laico impegnato. Impegnato, sì. Il rapporto suo con i missionari, con i frati? I frati li conosco da due anni. Conosco Francesco da una vita, perché avevo papà devoto a San Francesco d'Assisi, di Paola. Però mi richiamava sempre San Francesco d'Assisi, durante il cammino. Conosco i frati da due anni, li ho incontrati a Roma. Poi da lì ho voluto continuare, diciamo, questa avventura insieme ai frati nella mia terra di Calabria. È un'avventura sicuramente positiva. Sì, 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 bella, positiva. È ricca anche. È ricca di gioia, di fraternità, di amicizia, di accoglienza, di abbracci, ma soprattutto di pace, che è una pace interiore, no? Che non viene dall'uomo sicuramente. Che accoglienza ha trovata Mirto, Mirto Crosia? È una bella accoglienza, una bella parrocchia e anche con il parroco, no? Vedo che comunque la gente è molto, diciamo, legata alla parrocchia, no? Frequenta tanto e... bene. E io nel frattempo però mi sposto verso una signorina, anche la signora, pardon, pardon, una signora, anche la laica, che è arrivata qui a Crosia per sottolineare questa importanza la chiesa missionaria nel mondo e anche qui a Mirto Crosia. Da dove arriva? Io arrivo da Bisignano. E la signora si chiama? Maria Rosaria. Maria Rosaria. Sì. E niente, noi siamo arrivati qui per dire il nostro eccomi, prima di tutto, al Signore e portare le nostre testimonianze nelle case di questa parrocchia. Un grazie a Don Claudio che ci ha dato una super accoglienza insieme ai suoi parrocchiani e volevo dire che per noi non è solo importante portare la nostra testimonianza ma raccogliere anche i problemi, gli sguardi delle persone perché attraverso di loro anche noi ci portiamo a casa qualcosa e quindi vogliamo dire anche il nostro grazie per questo alla parrocchia di San Francesco. Ti racconta un'esperienza che hai avuto qui a livello locale? Incontrare persone, volti, in particolare in questo momento non mi viene niente però poi io a freddo faccio le mie osservazioni, le mie riflessioni cioè è poi lì che questa cosa mi è servita per questo perché è anche attraverso le persone che Dio tante volte ci vuole mandare un messaggio e ci vuole dire qualcosa. Qualcosa e il messaggio è arrivato, è un messaggio bello innanzitutto un messaggio importante, un messaggio forte che arriva da tutti questi missionari religiosi, laici, sacerdoti, religiose, abbiamo visto le suore ma anche l'esperienza e la testimonianza che arriva dai laici i laici impegnati nella Chiesa perché comunque la Chiesa è una Chiesa viva è una Chiesa formata da tutti noi, ognuno di noi porta avanti le proprie esperienze il proprio vissuto e porta la testimonianza, la testimonianza di Cristo io ringrazio tutti, grazie per l'ospitalità innanzitutto grazie al vice parroco di San Francesco d'Assisi, Don Claudio Cipolla grazie a tutti i missionari per questa importante testimonianza che state portando qui per questa importante missione in questo mese dedicato appunto alle missioni ottobre, l'ottobre missionario grazie a tutti e buon cammino, grazie